Investire sul domani, costruire futuro, missione difficile se non impossibile. Nell'Italia della partitocrazia e della burocrazia, in un paese spaccato dagli egoismi, da visioni miopi e in piena crisi di governo, i cittadini molto concretamente si trovano a dover affrontare una delle più grandi crisi della storia contemporanea. Crisi innanzitutto energetica che colpisce tutti, famiglie, imprese. Il nostro viaggio nel Vicentino inizia da Creazzo, da questa ditta che produce stampi e pezzi in plastica per il settore automotive e packaging. Siamo un'azienda fortemente energivora perché utilizziamo presse di stampaggio che devono fondere la plastica e quindi abbiamo consumi elevati. E sono proprio le aziende come questa ad aver impattato per prime sui costi sempre più insostenibili dell'energia. I costi energetici sono esplosi in modo ingestibile. La prospettiva è drammatica e bollette alla mano, a parità di consumi, basta fare il confronto tra le tariffe di oggi e quelle di un anno fa. Nel mese di luglio la bolletta, considerando gli stessi kilowatt, arriverà a circa 350 mila euro contro i 70 dell'anno scorso. Ingestibile, totalmente ingestibile. Le bollette arrivano al 10 del mese e le aziende hanno 20 giorni per pagarle. Bisogna averli, i soldi. Aziende che, magari non come noi, anticipano già le fatture per il normale flusso di cassa, vuol dire che nel giro di 3-4 mesi sono a terra. Un futuro a tinte fosche perché le aziende stanno perdendo i margini di guadagno. Una situazione che si rispecchia in quasi tutti i settori. Il nostro viaggio ci porta in un centro commerciale di Vicenza. Considerate che rispetto all'anno passato abbiamo avuto degli aumenti che sono intorno al 40-50%, quindi molto incisivi. Anche il centro commerciale in questo momento sta ottimizzando i costi. Cerchiamo di accendere gli impianti di condizionamento o le scale mobili o l'illuminazione solo nei momenti in cui è strettamente necessario, sempre rispettando gli standard di comfort e di normativa che sono in vigore. Non solo le attività private, il caro energia sta colpendo anche il settore pubblico, a cominciare dal bilancio dei comuni, come quello di Vicenza. Andiamo verso ormai 3 milioni di maggiori costo di energia che questo comune dovrà sostenere all'interno del proprio bilancio e all'interno delle proprie risorse. I comuni dovranno usare risparmi, avanzi di amministrazione, ma sono risorse destinate nel tempo a essere consumate. Poi dovrà intervenire il governo, sì, ma quale governo? Aspettiamo comunque anche il governo sarà importante, soprattutto nella fase autunnale, capire quale sostegno potrà dare, perché è un problema, penso, di tutta Italia, non solo di Vicenza.